Ciao a tutti ragazzi, sapete già perché siamo qui quindi io direi di andare direttamente con la sigla e vai! A me non mi interessa però della sigla Ottimo, ciao, la sigla l'abbiamo fatta Adesso ce ne andiamo nell'altro studio, vi faccio vedere in pratica che cosa succede, come sistemare questo problema ma praticamente quando importate una clip girata con l'iPhone su Premiere Pro il punto MOV spesso e volentieri, se non quasi sempre, almeno a me succede vi incasina tutti i colori, contrasti, luminosità, sovraesposizione che manco la madonna di Međugorje Detto questo, ce ne andiamo su Al volo in studio, correggiamo e vi lascio anche in descrizione un file che scimmiotta tipo il D-Log Potete usarlo per fare una piccolissima correzione colore, non fa miracoli, ma è meglio di niente ed è gratis Andiamo! Premiere Pro aperto, devo importare la clip La clip è qua La importo ed ecco praticamente il casino che succede Colori completamente sovraesposti ed è un manicomio Apro la clip giusto per farvi vedere che non è la clip il problema, ma questo già lo sapete I colori sono giusti Ecco, più o meno Il cielo è un gran manicomio Comunque, come risolvere? Cancellate il file dalla timeline Lo importate nella cartella dei file del progetto Clic destro Modifica Interpreta metraggio Spazio colore sostitutivo Allora, il casino lo dà questo codec qua, che a Premiere non gli sta bene, però all'iPhone sì E cambiate REC 2100 e lo spostate a REC 2020 SYN Ok? Rimportate in timeline Ecco il risulto Templice, veloce Se volete fare una cosa aggiuntiva e scimmiotare il D-Log Utilizzate il file che vi metto in descrizione, gratuito ve lo scaricate Ve lo mettete in una cartella e fate lo stesso procedimento con un passaggio in più Interpreta metraggio Loot di input Gli date il file Ecco qua E praticamente avete una clip con colori leggermente più scialbi Pronta per essere corretta Non che si possano fare miracoli, però È già un'idea Questa situazione è molto figa La trovate a Orlando in Florida, negli Universal L'ho tirato fuori dal mio ultimo viaggio Trovate il video completo su Instagram, by the way Niente, questo è molto semplice Ok, spero che vi sia stato tutto abbastanza aiuto Se è stato così lasciatemi un like, una spolliciata che non vi cambia nulla Attivate la campanella Mi raccomando, se ne avete voglia, seguitemi nel mio canale sulla pagina Instagram Che trovate molto, ma molto, ma molto di più Soprattutto trovate anche il video completo della clip che stavo usando come esempio su Premiere Pro Ho detto tutto Ciao ragazzi, a presto